o dalla nonna ebe e all'interno della puntata di scegliere la notizia ho letto si 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 no 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 uomo ciao bevara fatta dimmi adesso dimmo la linea dimissione Ciao Gimilchione, Gimilchione come stai? Come stai Gimilchione? Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto, allora cosa ti... Cosa ne dice di questo paesaggio? Nonna Ebe, bello! Nonna Ebe mostriamo le rovine di questo paese e devi andare a scoprire cosa c'è Nonna Ebe. Ok, Gimilchione, a dopo! Ciao, ciao! Io ero l'uno! Io non te voglio per te che mi è passato! Ciao Stefania, raggiungi Gimilchione! Eccoci, siamo qua! Se non mi hai detto, non mi hai detto? Allora, vai! Eccoci, sono qua! Maavo? Si amato da lavoro! Grazie perché hai fatto? Vabbè, è fatto, Gimilchione, i pezzo? Come vedete non hai detto il po' di rischio, no! Oh, poi invito! Siamo che siamo alle già stagioni con noi qui Però, vediamo questi ragazzi, che finamente lo può dirle, adesso bisogna vedere che fai Guardate, la mia macchina, molto la mia macchina moto gialla la nonna Ebe la nonna Ebe e compagnia Petit il bastatto è il mio amico buon Fabio buono di cognome o buono di nome? nome